della ripresa, un autorete che purtroppo sarà ricordata come un episodio chiave di questa partita comunque vada a finire, Gallo ancora a centi, difesa schierata, centi va al cross verso dall'acqua battuta la distanza, gran gol, gran gol ha azzeccato veramente il tiro della domenica ed Agostino regala il pareggio all'Etreviso, stupendo destro che è andato a battere Orlandoni Antonino D'Agostino, quinto gol in Serie B, una gemma straordinaria di D'Agostino al volo, non ha potuto nulla Orlandoni e D'Agostino ha messo a segno il gol dell'1-1 ma che gol, che gol, veramente ha avuto coraggio D'Agostino perché da quella posizione al volo di destro ci voleva veramente un gran coraggio per firmare questa prodezza al 49esimo che sta per scoccare il Treviso giunge al pareggio e devo dire tutto sommato visto l'andamento della partita